Bella a tutti ragazzi, io sono Signor e oggi vi andrò a parlare dei tre nemici più forti di tutte le storie e di tutti i fanfic attualmente Vabbè, i prossimi due oltre a questa saranno attualmente imbattibili da chiunque Cioè, per farvi capire, ne parlerò dopo, ma vi avevo già accennato di questi personaggi in un altro video Sto parlando della Bestia Atacama e del Super Saiyan 20.000 e Infinito Partiamo dalla Bestia Atacama, poiché è la più semplice di cui parlare Come mai? Attualmente del Super Saiyan 20.000 e Infinito ho trovato tre diverse storie Perciò dopo andrò a parlarvi di tutte e tre queste storie Ma iniziamo La Bestia Atacama può essere chiamata in due modi Sia la Bestia Atacama che Artusk Come mai Artusk? Semplice In realtà, la Bestia Atacama nasce su Deviantart sotto il nome di Artusk Fusione di due personaggi chiamati Artichok e Dusk Quindi questo qua che li ha creati e ha fatto anche la fusione Che poi fu presa e messa in Dragon Ball F Tra le tante storie what if che seguono la storia del Super Saiyan 10 Alla fine Goku sopravvive E quindi questa Bestia è così forte da tenere da battere Super Saiyan Mystic 4 E per batterlo serve il Mystic 5 Ora ragazzi, per chi non sa quanto è forte il Mystic 4 È fortissimo Circa dalle 10.000 passavolte Superiore al Super Saiyan 10 Quindi vi lascio immaginare il Mystic 5 che moltiplica di tantissime volte in più Per farvi capire In Dragon Ball F è stata inventata questa cosa Delle forme successive Tipo Super Saiyan 3 di livello mistico Super Saiyan Mystic 4, eccetera Sono arrivati al Mystic 5 Che l'hanno raggiunto solo Goku e Vegeta In una fanfic E vi stavo dicendo Praticamente Questi Super Saiyan non è che fanno il moltiplicatore normale del Super Saiyan No Sono miliardi di volte più forti rispetto al moltiplicatore normale Tipo Super Saiyan Mystic 3 Potreste dire 400 volte il Mystic normale No Perché batte il Super Saiyan 7 Fatevi voi i conti Ah, e lo batte quando non era nemmeno al suo 100% Perciò Immaginatevi se il Super Saiyan Mystic 3 va al 100% Ecco Poi il Mystic 4 è una bestia Che la bestia Takama ha battuto E poi c'è il Mystic 5 che è secondo solo a questi altri due di cui sto per andarvi a parlare I due fantomatici esseri di cui vi sto per andare a parlare non possono essere altri che il Super Saiyan 20.000 e il Super Saiyan infinito Super Saiyan infinito è quello con i capelli lunghissimi Il 20.000 con i capelli viola e il coso nero Cioè la peluria nera Ecco Voi mi direte Ma non sembrano tanto forti Ecco In Dragon Ball F ricordatevi che le trasformazioni di vine non esistevano Nonostante le trasformazioni di vine vi ho già fatto un paragone in uno scorso video Dove vi andavo a dire che questi due paragonarli a Zeno Già solo uno di loro fa sembrare Zeno scarso Tant'è che paragonare per esempio uno di loro che sono alla pari i loro due Contro Zeno è come paragonare Jiren Super Saiyan 20.000 o infinito al Super Saiyan 2 Goku Ah Jiren full power comunque E il Super Saiyan 2 Goku dovrebbe essere Zeno Questa è il loro livello enorme di potere E ragazzi questi qua in qualsiasi storia volete che appaiano Fanno il culo a tutti Cioè nessuno li può battere in Dragon Ball Cioè per farvi capire hanno fatti molti fanfic animati dove apparivano E chiaramente loro battevano tutti E vi stavo dicendo comunque ci sono tre storie di loro che ho trovato in giro per il web Una è un fanfic di Majin Goku Abel Di cui vi lascerò il link qua sotto in descrizione Che purtroppo non è più su Youtube Majin Goku Abel Non mi ricordo perché comunque Tutti questi tre video sono in spagnolo contate questo Quindi andiamo a raccontare la prima storia La prima storia l'ho trovata sul canale Dragon Ball News Dove viene raccontato che il Super Saiyan 20.000 è un Super Saiyan di mille anni nel futuro rispetto ad AF Che ha sbloccato questa forma Questo Saiyan che non è nemmeno né Goku né Vegeta L'ha sbloccata Arrivando a moltiplicare 20.000 volte la velocità della luce Tant'è che con un singolo movimento in una frazione di secondo Tira 20.000 colpi con un movimento in una frazione di secondo Contate questo Super Saiyan infinito invece è un Goku Sempre del Dragon Ball News Questo video dove ho trovato tutte le loro informazioni E appunto questo Goku ha sbloccato il Super Saiyan fino al 10 Ha sbloccato il Super Saiyan Mystic 1, 2, 3, 4, 5 Però non era contento Tant'è che per sbloccare tutte queste forme si è dovuto allenare in un'altra dimensione Allora che fa? Visto che non ci sono più tante forme che mescolano il Super Saiyan più chi Li mescola tutti ed esce il Super Saiyan infinito Ovviamente non c'è il 20.000 e mezzo E quindi Goku da questa fusione potentissima esce questa bestia chiamata Super Saiyan infinito E qualcuno mi può dire ma se appaiono in due storie diverse come fanno ad essere comparabili allo stesso livello? Semplice Dopo che hanno sbloccato queste forme questi due Visto che ha detto il Dragon Ball News Volevano solo combattere Vengono rinchiusi nel Quinto Inferno dove combatteranno per l'eternità Passiamo agli altri due video di questo qua che ha riportato la fanfic di Majin Go Quabble Praticamente secondo il fanfic di Majin Go Quabble Il Super Saiyan infinito e il Super Saiyan 20.000 sono sbloccati nel secondo inferno di Dragon Ball F Dove uno è Goku, sì E l'altro è un altro Saiyan dalla forza elevatissima Tant'è che i Saiyan invidiosi della sua forza l'hanno ucciso Quindi che succede? Questi due si allenano anche a detta dal Kaio Shin Supremo Che è anche un Re Kaio E quindi praticamente arrivano a fare questo Prima c'è questo Goku che sblocca il Super Saiyan infinito Ovviamente sono di anni nel passato Ma come mai c'è Goku? È il Goku di una linea temporale alternativa Che è arrivato in questa dimensione Grazie al suo teletrasporto Come nell'altra fanfic di Dragon Ball News E quindi che succede? Goku, bramoso solo di potere Riesce a sbloccare alla fine il Super Saiyan infinito E ammazzando la custode di un inferno Che era diventata amica di questo Super Saiyan leggendario Questo qua riesce a sbloccare il Super Saiyan infinito Cioè il Super Saiyan 20.000 Invece nell'altro video La storia è pressoché la stessa Solo che il Super Saiyan 20.000 Viene sbloccato Anzi no, scusate Cioè Sì, la storia è la stessa nel quarto video Visto che questi due video di Majin Goku Apple Come vi ho detto sono collegati Solo che qua c'è l'esplosione del pianeta Cioè c'è l'esplosione del pianeta Dove vi erano prima i Saiyan Però che succede? Nel video di Majin Goku Apple Viene detto, chiaramente a fine video Che il primo inferno dopo quella lotta si era aperto E il colpevole non era altri che Goku Perché come vi ho detto E' Goku il Super Saiyan infinito E quindi sarebbero rimasti nella storia In questo di Majin Goku Apple Come l'eroe e il villano Cioè il nemico Quindi alla fine viene detto che Goku era il colpevole Alla fine di questi due video Dell'uscita di tutti quanti dall'inferno numero uno Perché come vi ho già detto in F Ce ne sono cinque di inferni E quindi Goku viene incolpato E la battaglia dovrebbe continuare all'infinito Comunque ragazzi Ditemi se lo volete Se li vorreste questi due personaggi in Dragon Ball F Magari vederli combattere Perché si lo so che è quasi impossibile Per i loro livelli dover combattere Ma per esempio Dragon Ball News Aveva fatto un video Dove andava a comparare Anime War con Dragon Ball F E tipo questo Dragon Ball F vinceva perché c'erano queste due bestie Perché poi è arrivato a un certo punto La Genkidama Suprema di Gogetama Era COP ma contro loro non era niente Tant'è che il Super Saiyan 20.000 Ha fatto sciogliere la fusione Quindi ragazzi Io se dovessi classificarli in Dragon Ball F Li classificherei come i due nemici più forti Se vogliono fare i nemici Perché possono tranquillamente sia fare i nemici Che non La bestia Takama Esclusi loro È la più forte di tutti Tant'è che la fusione originale È appunto A detta sua Ha insegnato questa fusione Proprio in Metamore Tant'è che ogni volta Secondo lei Che la fusione viene eseguita Dovrebbe apparire a chi la esegue Cioè Dovrebbe Farsi sentire In quanto è la fusione stessa Quindi ragazzi Ricapitolando Loro due sono al pari Sia in forza di essere nemici Nel caso vogliono essere nemici Sia in forza Proprio Cioè se li vorresti mettere sul podio I Dragon Ball F Sono sia i nemici più forti Se vogliono essere nemici Poiché la loro battaglia È sigillata nel quinto inferno Dove si dice Dovrebbero combattere Per tutta l'eternità Dove è lì Che è l'unico luogo Dove non potrebbero fare danni E la bestia Takama Come terzo nemico Perché c'è sempre la possibilità Che se questi due Un giorno Interrompono la lotta E salgono dal quinto inferno Capite che Per i nostri eroi Sono dolori Per tutti Cioè non ce n'è per nessuno Quindi ragazzi Se il video vi è piaciuto Lasciate un mi piace Iscrivetevi al canale E attivate la campanella E le notifiche Per non perdervi nessuno Ai prossimi video Vi ricordo che Qui sotto in descrizione Trovate Il link al canale Telegram Il link al profilo Instagram Dove potrete seguirmi E il link Dove potrete leggere Tutti i fumetti Che vorrete Comunque ragazzi Vi ricordo che Qua sotto Vi lascerò Anche i video Da cui Ho preso le informazioni Per questo video Per citarli Perché io le informazioni Non le prendo a caso Quindi se il video vi è piaciuto Lasciate un mi piace E da Simone è tutto Alla prossima Ciao